Con un numero di testiera 461, Paolo Pettina, in sella, il suo Energy 4. Con un numero di testiera 461, Paolo Pettina, in sella, il suo Energy 4. Con un numero di testiera 461, Paolo Pettina, in sella, il suo Energy 4. Con un numero di testiera 461, Paolo Pettina, in sella, il suo Energy 4. Con un numero di testiera 461, Paolo Pettina, in sella, il suo Energy 4. Con un numero di testiera 461, Paolo Pettina, in sella, il suo Energy 4. Go! Go! Grazie. 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 Il punteggio per questo binomio è 60 e mezzo. Grazie.